E ora mi chiamiamo Elena. Martin, Edna. C'è? La sua. Ho deciso che voglio essere come voi. Parlare come voi, pensare come voi. Oce, ma com'è facendo? La sua. Ho riflettuto molto su me stesso. Io ho sentito come uno spirito creatore che mi divampava dentro, che mi incitava a fare di me uno degli orecchi attraverso cui il mondo sente, uno degli occhi attraverso cui il mondo vede. Insomma, voglio fare lo scrittore. Quale gente viene a lavorare? Ti stai affaticando troppo, passi rotto mio. Questi libri in te le mani che hanno? Ma a me non sai che parte se le apri una libra. Io non l'ho mai amata. Allora parliamo insieme. Ci sono amicizie importanti. Una bella raccomandazione. Mentre a magnavolene che si andrà a fatica con te. No, ma quando scrivi sei troppo crudo. Tu vorresti che io togliessi tutte le cose brutte che scrivo? Che tessi una speranza? Quanti ne vedi morire di fame? Finire in galera perché sono dei poveretti, schiavi, ignoranti e stupidi. Lotta per loro, Martin. Quello che scrivi non si venderà mai. E noi non ci sposeremo mai e non saremo mai una famiglia. Prima dovrei vergognarvi raccontare tutto questo. A signorina Ellen non è proprio te. Noi potremmo essere felici insieme. Noi non ce lo saremmo, Martin. Noi potremmo essere felici insieme.